Salve ragazzi, io sono Diego. Oggi non poteva mancare anche il secondo esercizio sugli shapes semidiminuiti. L'accordo è sempre fa diesis minore settima bemol quinta e come per i precedenti lo eseguirò sia con la tecnica del plettro che del legato. Buon divertimento e noi ci vediamo alla prossima. Per restare sempre informati sulle mie lezioni iscrivetevi al mio canale e cliccate la campana. Ciao, da Diego. Ciao, da Diego. Ciao, da Diego. Ciao, da Diego. Ciao. Ciao, da Diego. 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 Ciao, da Diego.